Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo ventesimo episodio della serie di Minecraft Signori io sono Maullo e prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i genti e per il supporto E vi ricordo di iscrivervi al canale Signori, allora, mi siamo fuori dalla caverna, signori, perché è successo il patatrack Ovvero ho continuato all'esplorazione, siamo morti male, però per fortuna sono riuscito a recuperare Tutto quanto quello che avevamo più o meno raccolto E più o meno raccolto Io sento strani rumori, però va bene Tutto quello che più o meno avevamo raccolto, ho sistemato l'inventario e adesso ve lo faccio vedere Abbiamo trovato tre diamanti, una botta di oro, una botta di ferro, molto bello E stoppite anche del ram che non si servirà assolutamente a nulla Però più o meno siamo riusciti a recuperare tutto quanto l'ambaradan Detto questo, signori, è notte, quindi io mi aggiungo velocemente a tornare a casa E ci vediamo quando il sole sarà alto sopra le nostre teste Ok signori, il cielo è alto sulle nostre teste Le nostre mucche saranno la nostra nuova fonte di cibo, come se non ci fosse un domani Quindi taglie così, seminiamo, seminiamo E' anche bello farvi vedere queste rotture di palle praticamente Quindi ve le faccio, le condivido anche con voi, signori, che ogni tanto ci stanno Mucca 1, mucca 2, mucca 3, mucca 4, mucca 5 Quante cazzola siete? Chi è che c'ha ancora fame? Tu ma mi sa che rimani da sola Può essere... non lo so Mucche, però dovete crescere, porca miseria Perché qui, sennò, la truppa, la carne non cresce sugli alberi, signori Noi abbiamo bisogno di carne, come se non ci fosse un domani Allora, buttiamo questi semi che mi hanno rotto, sinceramente, le scatole Via così Abbiamo ammazzato due ragni e due creeper Sono esplosi, infatti mi hanno fatto un buco là vicino alle canne da zucchero Terribile, però I ragni li abbiamo uccisi perché le stringhe, signori, ci servono, sinceramente, per fare nuovi archi e nuove Nuovi archi e nuove situazioni Ok, gli archi, questi li mettiamo qua Questo ce l'ho io, nelle ciamprusaglie Ce l'ho della polvere da sparo buttata così a casa No, bene, bravissimo, bravissimo, bravissimo Allora, iniziamo a cuocere come se non ci fosse un domani Un poco di... no, però non consumo il carbone Che ne abbiamo molto poco Andiamo con i blocchi di kelp Che non è per niente male come situazione Due patate che sono andate così Dai, cuoci queste due patate, cazzarola E vai con il carbone E vai con... sì, con il carbone, con il ferro Signori, cosa facciamo nel video di oggi? Nel video di oggi andiamo a fare il tavolo degli incantesimi Signori, sì, 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 sì Inizieranno una serie di video, signori, di progettazioni Oggi è il tavolo degli incantesimi I prossimi video potremmo fare pesantemente un mob spawner, signori Perché abbiamo bisogno di esperienza Perché se non incantiamo le cose Non andiamo da nessuna parte Allora, intanto mettiamo le patate C'è una patate cotta qui? No, ne ho una cruda qui Va bene, va bene Va bene, dettagli, dettagli Posiamo l'oro grezzo Per ora lo mettiamo qui Ok, diamantozzi, tre nello beccati Abbiamo 22 Quindi il tavolo degli incantesimi lo possiamo fare L'ossidiana lo abbiamo Cerchiamo un attimino Dove fare il tavolo degli incantesimi, signori Io lo farei piccolo piccolo Qui a fianco al nostro portale Ci sta, secondo voi? Secondo me sì Perché farlo dietro Perché qua dietro voglio andare a fare poi grosso grosso Il anche Perché comunque dovremmo essere lontani dai vari villaggi Vorrei fare il mob spawner Bello Qui al centro che spacca tutto Fare una grande piattaforma enorme Come se fosse proprio il centro della nostra isola E fare il mob spawner qua sotto A seguito delle mucche vorrei andare a mettere i polli Che in qualche maniera dobbiamo riuscire a fare E poi a continuare magari potremo andare a mettere le pecore Perse verso l'infinito e oltre Qui potremmo fare Come si chiama? Il tavolo degli incantesimi Che magari non arriva proprio preciso preciso là E poi a seguire l'incudine Che secondo me con tutto il ferro che abbiamo trovato Lo possiamo anche fare Allora per fare il tavolo degli incantesimi A noi intanto serve tanto legno Tanto legno di questo di qua Tante canne da zucchero Sì canne da zucchero Che cazzo lo stai a dire canne da zucchero? Dammi la forbice La forbice La spada Recuperiamo un po' Quanto è bello praticamente poter fare tutto il legno che voglio con il bambù Ma quanto è bello signori Ma che bella inventiva che hanno avuto Di poter utilizzare il bambù come legno Ma come manca un bambù? No, ci abbiamo tutti Spettacolo Poi ricresce subito Ok, ok Ok, il bambù l'abbiamo ricreato Allora signori Mi crea un attimino tutto l'ambaradan Che mi serve per farmi il tavolo degli incantesimi E ci vediamo quando partiamo con la costruzione Ok signori Abbiamo un attimino Più o meno Più o meno Delle basi Da cui possiamo partire Allora Partiamo da qua Partiamo da qua Che dobbiamo partire con il legno scuro Già stavo a sbagliare Partiamo da qua Che partiamo con il legno scuro Ovvero facciamo uno Cremi poi questo di qua Poi facciamo questo di qua Poi facciamo questo di qua E poi direi di fare questo di qua E penso che Vada anche bene Qui non siamo alla stessa linea Del vecchio ponte Però chi se ne frega Dobbiamo fare dei vari movimenti Sennò poi viene tutto uguale A questo punto Io direi che possiamo 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 Qua come cazzo l'ho fatto Possiamo 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 Devo prendere un attimo di misura Questo e poi un altro Ok va bene Va bene Va bene Più o meno Dobbiamo tenere sempre lo stesso disegno Signori Più o meno Più o meno Non Ok così E da qua iniziamo a girare Ok Iniziamo con Tre E ora dovremo un attimo Prendere le misure Giuste signori Uno E due Allora Consideriamo che il tavolo dell'incantesimo Deve venire qua in mezzo Giusto? Sì Uno spazio viene lasciato per il giro Quindi qua c'è andata la libreria La libreria Questo spazio viene dietro alla libreria Quindi secondo me Già qui possiamo andare a chiudere Secondo me Sì Sta in tutto questo prevento Cattura di scatole Uno Due Tre Quattro Compreso questo Quindi uno Due Tre Quattro È giusto? Mi sa che forse ho sbagliato qualcosa Allora Centrale Poi abbiamo Uno Due Tre Centrale Uno Due E il tre Il terzo gira Giusto? Uno Due E il terzo gira Ok Ci dovremmo essere Ora Pidiamo le misure Giusto per Il 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 La struttura Allora Io direi Io direi Che il tavolo dell'incantesimo Lo mettiamo Al terzo Ok Quindi qui Quindi poi abbiamo Libreria 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 Giro per passare dietro E basta È per chiudere Secondo me così dovremmo Dovremmo esserci un attimino Con il disegno Della Sette E otto No otto Non vanno bene Signori Devono essere sempre dispari Se no Vabbè che di qua Noi non facciamo Un collegamento Lo facciamo direttamente Da qua dietro Il collegamento Quindi vabbè Lo lasciamo di otto Signori E vabbè Questa oltra Lo lasciamo di otto Non c'ho voglia Minimamente di Andare a fare Altre strutture Strande Andare a smontare Ovamente tutto Veloci Rapidi Indolore Senza paura E senza vergogna Ok Ok Ora andiamo a fare Il giro Delle nostre Delle nostre Bellissime Slab Con le canne Da zucco Sì Ah di nuovo Con le canne Da zucco Le ho dato Porca miseria Sono bloccato Con queste canne Da zucco Manneggia 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 Sono assi di bambù Non sono canne Da zucco Però va bene Però va bene Le costruzioni Procedono Signore Le costruzioni Procedono Rapido taglio Ma diciamo Che questa È sempre la storia Da solfa Quindi Sì Rapido taglio Dai Finisco di mettere Questo il pavimento E ci rivediamo qui Sempre sul canale Là sotto Abbiamo Della Degli alberi di betulla Voglio cambiare Il collo del pavimento Dici ma è utile Come cosa Non lo so Però quantomeno Diamo un attimo Di variazione Alla situazione Se no facciamo Tutte le piattaforme uguali E la cosa Non mi aggrada Più di tanto 30 mi bastano Non lo so Facciamo le altre 3 36 36 dovrebbero bastare Mi cazzarola In tutto questo Mi devo portare Anche questi Sì Che ce li abbiamo Ok Quindi andiamo Velocemente Verso la nuova piattaforma E mettiamo Un legno Un pochino Più chiaro Dai Quanto meno Cambiamo un attimino Cambiamo un attimino La situazione Dai Se no facciamo Tutte le piattaforme uguali A parte quella del Del portale del nether Poi Del portale del nether Poi sono tutto uguali E no 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 Ma perché questa si vedrà poco Perché Non dovremo andarci a mettere Le librerie Quindi si coprirà Però 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 Quanto meno Diamo Diamo un movimento diverso Eh dai Potremmo anche fare la balconata Di bianca Per dargli Un senso Un senso diverso Un senso diverso Ci può stare Ci può stare Ho della terra Sì Ok Dobbiamo mettere I pilastroni Qui Quindi fai così Perché ho levato i blocchi Non pensando che devo metterci I pilastri sotto So scemo Perché se no Non ho come metterli Me li mette tutti storti Quindi mettiamo Questi di qua Mettimi questi Me li metti qua Scendiamo Velocemente Nel blu Dipinto di blu E mettiamo I blocchi 1, 2, 3 E 4 Mi basteranno Non lo so Di sicuramente Dobbiamo andare A recuperare Quest'altro tipo di legno Signori Dobbiamo fare Una cernita Un disboscamento Un disboscamento Di tutte queste zone Ma lo faremo Lo faremo Non oggi Non oggi Anzi potremmo fare anche Una farm Di tutti questi alberi Messi uno a fianco all'altro Potrebbe venire una cosa carina Che cazzarola Terra qua Leva sta terra Leva sta terra Che devo andare più in profondità Leva, 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 leva Bravissimo Mettici questo Ok Pichiamo fiato Andiamo a mettere l'altro Dai così Dai così Ok 1, 2 3 4 Perfetto E ce l'abbiamo fatta Meno male che ho messo ste scalette qua di lato Così saliamo velocemente E non ci perdiamo in chiacchiere Ok Quindi io direi che possiamo fare I bordi con la betulla No no I bordi li lasciamo sempre di bambù Lasciamo sempre lo stesso disegno Non alteriamo troppo le cose Allora Piazziamo i Le staccionate di bambù Le staccionate di bambù Che io dovrei avere qualcuno qua Ne abbiamo 5 Ok Quante ne riusciamo a fare in più Quante ne riusciamo a farne in più Sto consumando il betulla per si Sì 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 Ha consumato i blocchi di betulla per fare I bastoncini Sì Decisamente sì Allora Vediamo Quante me ne possono servire per far tutta quella zona Non lo so 7 Perché è proprio 7 Possiamo fare 8 Mi piace di più il numero 8 Metti qua Metti qua 29 Mi basteranno mai Lo scopriremo fra poco signori Lo scopriremo fra poco Allora Mettiamo le staccionate lì Dopodiché Costruzione del tavolo degli incantesimi Queste si possono andare qua Via 1 E via 2 E iniziamo il giro Guarda È impazzito È impazzito il blocco di terra Alleniamolo subito Prima che impazzisce completamente tutto Dai così Dai così 17 Non penso mi bastino Per completare il giro Qui dovremo lasciare lo spazio vuoto Perché dobbiamo andarci a ricollegare Con quell'altra zona di là 10 Non penso mi bastino signori Non ben 4 Bene così Mi rimane l'ultimo Mi rimane l'ultimo Mi ne mancano una botta di 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 barriere Da andare a mettere Mettiamo però sempre le torce Che è sempre cosa buona e giusta Così Illuminiamo un attimino la situazione L'audio è troppo forte Mi sta Facendo saltare i timpani Ok Ok Siamo a buon punto Signori Siamo a buon punto Dobbiamo fare qualche staccionata pure Di Questa qua viola Ma facciamo le cose serie Andiamo a costruire il tavolo degli incantesimi Che è la cosa fondamentale di questo video Signori Allora ci serve l'ossidiana Ci servono i diamanti E ci serve un cazzarola di libro Ora io la pelle dovrei avercela da qualche parte Di qualche mucca Ok Abbiamo la pelle e abbiamo Le canne e la zucca Ok Dovremmo avere tutto signori Prima di tutto Prima di tutto Facciamo dei fogli Belli così Mettiamo i fogli qui Mettiamo la pelle qui E abbiamo il libro Signori Ok Poi come cazzarola era Cosa così E poi così Me lo ricordo Perfetto signori Dai e così Tavolo degli incantesimi fatti Tavolo degli incantesimi Fatto signori Perché non mi ha dato l'achievement Perché non Forse quando lo piazza mi darà l'achievement Boh Non lo so Non era per pari di idea Allora abbiamo detto Che dovrebbe andare qua in teoria Giusto? Sì Perché la libreria Poi partono da qua Uno Due Tre Poi gira di là Sì Quindi diciamo che va qua Ok signori Abbiamo il tavolo degli incantesimi Non possiamo incantare niente Perché abbiamo solamente due livelli di esperienza Però un giorno Un giorno ci arriveremo Un giorno ci arriveremo signori Allora Completiamo velocemente questa zona Librerie Penso che non ne possa fare Vediamo Vediamo un attimino Vediamo un attimino Anche perché abbiamo poche mucche signori Abbiamo poche mucche Dover giocare un pochino Off camera Per Abbiamo tre libri Forse 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 Sapete che forse 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 Sì abbiamo tre libri Abbiamo tre di queste Quindi tre libri Quindi Una libreria forse One library One library signori One library fatta Bello così Bello così E poi facciamo Facciamo Quanti me ne puoi fare Tre Ma io non ce li ho Tre di questi Sì ne ho tre Solo per un lato Però bello così Ne possiamo fare solamente uno Perfetto Ne possiamo fare solamente tre Cosa cazzo lo dici Però posso sfruttare questi E chi se ne frega Via No perché mi cambiano di colore Niente Niente Sto delirando signori Sto delirando Ci serve del bambù Non ho bambù buttato così A caso Per caso Così Senza se Senza ma No non ho bambù buttato così A caso Va bene Va bene Va bene Va bene Allora Ne ho invece distaccionate Di questa qua Me ne sono rimaste No non mi sono mai rimaste Rapido taglio signori Rapido taglio Prima che deliro Malamente Ok In questo momento Dovremmo avere tutto Dovremmo avere tutto Più o meno si spera Più o meno si spera Dovremmo riuscire ad avere tutto Allora intanto Piazziamo queste Che se così Evitiamo di Di cascade sotto Mannaggia a me Ho sbagliato Dobbiamo fare Uno sì Uno no Ok Quindi in questo caso Questo sì Questo no Questo sì Questo no Uno Due E tre Ok Dobbiamo levare Quindi questo di qua Recuperalo Grazie Metti questo di qua E questo di qua Perfetto Piazziamo Piazziamo la libreria Che abbiamo L'unica libreria Che abbiamo In questo momento La andiamo a piazzare Qui Sbam Perfetto Possiamo già fare qualche Grandesimo Con qualche livello Assolutamente No Anche perché non ne abbiamo Quindi No possiamo arrivare Ma siamo a livelli 6 La visitazione è livello 1 Livello 2 E livelli necessari 6 Bene Va bene signori Detto questo Qui ho lasciato il buco Perché effettivamente È giusto Perché andremo a fare Il ponticello Che ci unisce lì Sperando che riuscire A beccare preciso Il centro Non lo so Lo scopriremo solo Nel prossimo video Detto questo signori Io vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per il gente Per il supporto Abbiamo una base Degli incantesimi Signori Ed è già tanta roba Bella raga Ciao